Per ricapitolare un pochino quelle che sono le motivazioni per operarsi subito. Abbiamo detto che la maggiore facilità di esecuzione dell'intervento rispetto ad una volta la tecnologia moderna ci permette di operare subito e non dobbiamo aspettare che il cristallino diventi rigido e c'è una buona sicurezza di riuscita dell'intervento e ovviamente abbiamo minori poi rischi anche per i pazienti perché sappiamo quanto in realtà la cataratta incide sulla pericolosità della vita nel caso più specifico degli anziani. Abbiamo poi dei vantaggi di stile di vita dinamico, uno torna subito a vedere, a correre, a fare sport, andare in barca, guidare eccetera. Un benessere psicofisico perché uno si sente ovviamente più sicuro di sé e magari se uno ha una certa età la cataratta si fa operare e magari riprende alcune attività. Grazie a tutti! Ciao!